Ed è lotta delle forze dell'ordine alla movida violenta, d'aspo urbani e controlli capillari intensificati. Il sottosegretario agli interni, Molteni, visita la questura di Fo, visita la questura di Forma. Il servizio è di Gemma Giovannelli. Vendevano alcolici a minorenni senza verificare la loro età tramite un documento. In un caso spacciavano anche sostanze stupefacenti. Per questo sono state sospese le licenze temporaneamente chiusi in poche ore nella capitale. Quattro esercizi commerciali nei quartieri Salario Parioli e Fidene. In applicazione degli articoli 100, le nuove norme di pubblica sicurezza firmate dal questore di Roma, Mario Della Cioppa. Dieci giorni di sospensione per tre attività, 30 invece per un locale di Viale Ionio, dove gli agenti della polizia hanno scoperto un ingente quantitativo di hashish suddiviso in dosi, pronte per la vendita al dettaglio. Il titolare è stato arrestato. Procede incessante la lotta delle forze dell'ordine alla movida violenta attraverso i provvedimenti in questione, così come i daspo urbani e controlli capillari, finalizzati soprattutto ad arginare e debellare il fenomeno della somministrazione di alcolici a minori. Ma la movida e violenza inaudita, il sottosegretario all'interno, con delega alla Polizia di Stato, Nicola Molteni, ha fatto visita oggi a formi ai quattro poliziotti del locale commissariato, rimasti feriti il 20 aprile scorso, mentre portavano a termine un servizio anti-estorsione nella stazione di Minturno. Sono troppe, troppi uomini e donne in divisa, che nell'adempimento del dovere, con senso di sacrificio, di impegno e di abnegazione per lo Stato, subiscono aggressioni e violenze. Credo che sia dovere, compito dello Stato, difendere chi garantisce la sicurezza ai cittadini italiani. La sicurezza è una priorità nell'agenda del governo. E da lunedì, con l'ingresso in zona bianca, intensificati i controlli per evitare gli effetti negativi della movida.